Emiliano è sacerdote della diocesi della sua Bologna, docente a lungo in quell'università, Fiorenzo Facchini, studioso di scienze naturali, paleontologo, antropologo. Il suo nome figura nei comitati scientifici più autorevoli delle accademie del mondo ha scritto centinaia di ricerche, di saggi sull'evoluzione umana, sul rapporto tra scienza e fede con tutte le implicazioni etiche che queste comportano. Senta, la chiamo reverendo, la chiamo professore? Come vuole, forse il professore è più attinente. Insomma, la croce e il colletto direbbero anche altro. Vige ancora il pregiudizio per cui è perlomeno curioso che un sacerdote si occupi di scienza? Beh, un po' di meraviglia, qualche sorpresa l'ho notata in qualche contatto che ho avuto con persone di vari ambienti, che ho un prete di interessi di evoluzione. E pensare che alcuni dei più esimi uomini di scienza sono stati, fin dai tempi più antichi, religiosi? Sì, è vero. Ovviamente il rapporto con la scienza, la religione attraverso persone che, anche qualificate in campo etlesiastico, l'ha sempre tenuto. Tutta la sua ricerca, tutta la sua vita accademica testimonia la convinzione che scienza e fede camminano in ambiti diversi, lavorano su ambiti distinti. La cito, non si deve chiedere alla scienza quel che la scienza non può dimostrare, né alla religione la dimostrazione scientifica di quel che afferma la fede. Sì, queste posizioni sono storicamente segnalate in tanti contrasti che hanno caratterizzato questo rapporto che non è così immediato, cioè la delimitazione dei campi specifici dell'una e dell'altra. Non rispettare questo proprium di ciascuno porta a delle posizioni che diventano di contrasto, polemiche, equivoche, che non corrispondono poi alla verità delle cose. Voler applicare una certa metodologia di studio alla ricerca della dimensione spirituale, della dimensione trascendente o per escludere la dimensione trascendente, questo è stato fonte appunto di contrasti e di equivoci. Senta, professore, non è rischioso però separare così gli ambiti riducendo la fede a una dimensione solamente privata e spirituale? Sì, l'orizzonte, diciamo, di valutazione dei significati e anche della correttezza, per così dire, del muoversi, questo può essere fatto, deve essere sempre fatto in una visione che voglia cercare il proprium dell'una e dell'altro e quindi poi un'armonia possibile. Si trova questa armonia anche con colleghi che non sono cristiani o di altre fedi? Beh, indubbiamente la disponibilità è importante, la disponibilità anche a integrare queste diverse visioni che si possono avere dalla scienza e dalla religione, insomma, dalla fede, ci vuole una certa disponibilità perché se uno a priori nega tutto un mondo che è il mondo appunto del trascendente fa un'operazione di tipo riduttivo, indubbiamente, però preclude qualunque dialogo. Lei non rifugia mai dalle considerazioni e dalle richieste della fede al mondo scientifico e anche alle politiche che ne attuano gli orientamenti. Scienze fede non camminano su strade parallele, ma si incontrano e devono incontrarsi. Nell'uomo, nella vita dell'uomo, nella vita della società, ma sono, non sono binari, sono paralleli con qualche punto di contatto. Anche Gould parlava di magisteri indipendenti, quello della scienza e quello della fede, che non entrano in collisione fra di loro perché hanno ambiti diversi, metodologie diverse, però si incontrano a un certo momento nella persona, nella persona che ragiona su queste cose e che può anche vedere come applicarli o tenerli conto nella vita. La scienza oggi, molte volte, sembra ridurre l'uomo a un agglomerato di cellule, modificabili tra l'altro, prescindendo dalla sua dimensione spirituale. Ora, la dimensione spirituale non può essere dimostrata col metodo scientifico. Assolutamente. Ma è evidente? La si ricava da alcune espressioni dell'agire umano, perché parliamo dell'uomo, la si ricava non la si dimostra dal punto di vista con dei metodi empirici, chiaramente non si può dimostrare, la si ricava, la si deduce dall'interiorità della persona che poi si esprime anche esternamente attraverso dei segni, certe espressioni visibili, insomma, del senso religioso che è profondo Però le sue ricerche antropologiche direbbero il contrario, cioè che si può dimostrare tutti i suoi studi sull'evoluzione dell'uomo e sulla differenza tra l'uomo e l'animale sulla base dei simboli con cui l'uomo ha saputo esprimere questo desiderio di una risposta, di senso, questo slancio verso l'infinito, il trascendente. Sì, certamente il simbolismo è una chiave interpretativa, diciamo, dell'uomo, del significato dell'uomo, di ciò che l'uomo è, di ciò che lo caratterizza, il simbolismo io ritengo che è essenziale nello studio dell'uomo e anche nello studio dell'uomo nel suo rapporto col trascendente. Mi faccio qualche esempio, parliamo di graffiti, immagino, nelle caverne. Sì, però il simbolismo non è cominciato con i graffiti delle caverne oppure con le pitture che noi troviamo nelle grotte del Paleolitico Superiore in Spagna, in Francia o da altre parti. Il simbolismo è molto anteriore perché, a mio modo di vedere, il simbolismo si può riconoscere anche negli strumenti fabbricati dall'uomo un milione e ottocento mila anni fa, come i bifaciali, certi bifaciali che sono… Cosa sono? I bifaciali sono strumenti che hanno una forma caratteristica un pochino simile a quella della mandorla, un po' con due facce lavorate sui lati e sulle facce stesse. I bifaciali che hanno trovato… ma sono… li hanno trovati un po'… non dico dappertutto ma in molti depositi. Adesso segnalavo questi dell'Etiopia che sono veramente belli perché in questi bifaciali… Che cosa servivano? Erano strumenti di lavoro? Ma sì, non strumenti di lavoro… di caccia… certo, di lavoro, di caccia… ma nei bifaciali vi sarebbe… sarebbe riconoscibile un'armonia della lunghezza e della larghezza che corrisponde al rapporto aureo. Che sarebbe? Il rapporto aureo è una certa proporzione che dà anche un senso di armonia allo strumento. che già c'era… che quindi non è legata a una funzione. La funzione potrebbe essere raggiunta anche attraverso un altro strumento, però questo abbellimento che rivela l'armonia è molto bello. Io credo che sia da interpretare anche come un'espressione simbolica, un valore simbolico… Tuttavia… Che va oltre la funzionalità. Tuttavia questo non porta ancora a un rapporto con il divino. No, no, assolutamente no. Però se c'era questa capacità astrattiva e anche di cogliere o realizzare insomma questa armonia, ecco questo sta… rappresenta un fondamento e una condizione essenziale per arrivare a quello che potrebbe essere un salto, un salto vero e proprio a una dimensione trascendente che l'uomo, anche l'uomo delle origini probabilmente ha fatto, probabilmente, non abbiamo la documentazione… Beh, per forza. …a guarda, la volta celeste, la montagna, anche quelle manifestazioni che Mircea Eliade chiamava l'ierofanie, cioè manifestazioni del divino nella natura che possono legarsi o essere suggerite anche da fenomeni che l'uomo osserva. Vale anche per Leopardi e vale anche per lei quando cammina in montagna, credo. Anche grazie. E non è cominciato con l'uomo del Paleolitico Superiore, nemmeno con l'uomo che seppeliva i morti cento mila anni fa. Io dico fino alle origini, fino a quando l'uomo è comparso. Fino alle scimmie? No, fino a quando l'uomo è comparso. In ciò che di caratteristico ha che, a mio modo di vedere, la simbolizzazione è quella che lo caratterizza. Cioè, lei ci sta dicendo in maniera rozza, riassumo, che è connaturato all'uomo una diversità rispetto agli animali. Assolutamente. Io ho detto le scimmie perché anche qui sulla derivazione delle scimmie bisogna spiegare bene. Lei si è occupato a lungo dell'evoluzione. Ho qui un libro che è il suo quasi ultimo, possiamo dire così, Uomo, natura, cultura, dove affronta vari argomenti anche di stretta autorità, ma anche il tema naturalmente evolutivo che credo sia centrale per la scienza. So che sta per pubblicare un altro libro proprio dedicato a questo rapporto, sia in spagnolo che in italiano. Basta Darwin alla scienza, professore? Basta Darwin alla scienza? Darwin ha dato il suo contributo e certamente ha dato anche un impulso agli studi sull'evoluzione, però sarebbe riduttivo pensare che solo con Darwin si possano affrontare tutte le domande che sorgono dall'evoluzione. Lei ha scritto che l'evoluzione manifesta la creazione. Sì, perché in qualche modo fa pensare che ci possa essere qualche cosa che è alla radice, all'origine di tutto, soprattutto guardando a quello che è la realtà di oggi nel mondo vivente e anche per quanto si riferisce all'uomo, ecco, le domande che sorgono sono molte, sono moltissime, ecco, che investono non soltanto la sfera fisica ma anche la sfera comportamentale, quella che io chiamo sfera culturale, rivelatrice appunto delle capacità umane di progetto e di simbolo. Allora, ecco, se mettiamo insieme tutti questi elementi, cioè dall'armonia che c'è nella natura, ci sono armonie impensabili e se ne mettiamo insieme con quello che l'uomo realizza e quindi anche il discorso del rapporto aureo è stato studiato anche in natura, nelle spirali del nautilus, nelle filotassi delle piante. C'è qualcosa che anche se noi non riusciamo a spiegarle… C'è un disegno? Per lo meno la suggestione c'è, ecco, non è una prova. Perché lei è così prudente? Ha detto qualche cosa… Perché… Perché… Perché non dice Dio. Ci si porta su un piano che è diverso da quello dell'osservazione empirica delle scienze. per cui la scienza può suggerire, ti offre dei dati, delle informazioni, insomma, che ti pongono delle domande alle quali se posso cerco di rispondere con i metodi scientifici, ma ad alcune no perché sono fuori dalla metodologia. Ma neanche gli scienziati non religiosi riescono a rispondere del tutto. Ci sono tante cose. Io mi chiedo, questa è una domanda che pongo io, che esistano in natura delle… o delle leggi, insomma, o qualche cosa che… che comporta poi un certo ordine, ma che potrebbero essere di ordine naturale, senza pensare a interventi particolari del trascendente, cioè di Dio che mette a posto le cose e le organizza. Ma lei da sacerdote e da scienziato ha vissuto dei contrasti profondi? Ha vissuto una crisi anche nella considerazione della realtà? Beh, io mi sono posto molte domande, ecco, anche il discorso… La suggestione del progetto intelligente, non so se lei l'abbia… cioè che è una posizione sostenuta anche da scienziati in America, però è ambigua, perché postulare, diciamo, l'intervento di Dio, perché oggi come oggi non riesco a spiegare alcuni fenomeni, alcune proprietà di ordine naturale, biologico, insomma, è rischioso… Non possiamo usare Dio per coprire i vuoti. Perché domani si scopre come stanno le cose… Certo. Lei da sacerdote che risposta dà al tema dell'evoluzione? Io credo che… ritengo che l'evoluzione ci sia stata, che risponda in qualche modo ad un progetto che è superiore, nel senso, cioè, appunto, che viene da Dio, che si è realizzata con delle proprietà e anche con delle modalità di ordine naturale, non tutte le conosciamo, ce ne sono alcune, almeno io ritengo che non si conoscono, nell'insieme, rispondo ad un progetto, dicevo, appunto, superiore, però qui c'è questo salto, per così dire, che io faccio… Che è quello della fede. Che è quello, sì, della fede, dell'accettazione, che però tutto sommato mi sembra anche armonico nell'insieme, nel dare spiegazione della realtà, soprattutto nelle sue dimensioni fondamentali, dell'esistere e del cambiare. Ecco, a proposito di cambiare, professore, le diversità biologiche esistono o le creiamo noi? Parlo dell'uomo, eh? E contano, e quanto contano nella vita della persona? È chiaro che introduco il tema della teoria del gender, che oggi sembra ormai acquisita e pare retrogrado porvisi. Sulla teoria del gender si potrebbero dire tante cose, anche perché si discute se sia una teoria o se siano più teorie, oppure, meglio, è un'ideologia. Alla fin fine non esiste una teoria o delle teorie scientifiche del gender. Un'ideologia, sì, l'ideologia secondo la quale il genere, appunto, uno se lo sceglie, se lo stabilisce, in base a quello che ritiene in quel momento addirittura, non solo come scelta di vita, per così dire, la fluidità del sesso del genere, meglio, la fluidità del genere è un punto forte, insomma, nell'ideologia del genere, ma questa non è scienza, questa è una costruzione ideologica da cui io credo che si deve stare in guardia, perché non corrisponde alla natura. Insomma, a modo di vedere, quando si ragiona dell'uomo anche, oltre che di queste cose del mondo della natura, è l'aderenza alla natura che deve essere mantenuta per scoprire la verità delle cose. Se uno si distacca, se la costruisce a modo suo, può fare quel che vuole, però non corrisponde alla realtà. E gli uomini di scienza sono d'accordo con questo giudizio? Non sempre. Dovrebbero essere, a mio modo di vedere. Seguendo il metodo scientifico. Sì, però a volte si lasciano forse anche influenzare, insomma, da quella che può essere, da quella che è la costruzione che l'uomo fa, ma con una sua ideologia, che finisce, se si distacca dalla realtà della natura, appunto diventa qualcosa di artificiale. Professore, lei ha fatto esperienza sul campo sempre, sia quando si tratta di esaminare teschi di australopitechi, sia in altri ambiti, e so che è stato in varie spedizioni in Kazakistan per studiare non solo l'evoluzione dell'uomo, ma anche il suo adattamento all'ambiente. Kazakistan, soprattutto all'inizio degli anni 90, insomma, era appena finito l'impero sovietico, era una di queste repubbliche un po' sbandate. Mi immagino che non sarà stato facile andare a fare delle ricerche scientifiche là. Che ricordi? Ah, ho dei bei ricordi. Ho dei bei ricordi perché avevo conosciuto occasionalmente un professore, il professor Isma Gulov dell'Università di Almata e dopo ho viato di questi rapporti di collaborazione prospettando una ricerca sull'adattamento umano alle alte quote in queste regioni, in alcune regioni in cui le popolazioni umane si erano stabilite in epoca relativamente recente, quindi non ci doveva essere stato un adattamento genetico, come per esempio nell'America, negli altopiani dell'America. Allora abbiamo individuato, lui ha individuato alcune aree a duemila metri nel Tianshan, nel sud del Kazakistan e poi siamo anche andati oltre… Ma era una spedizione pionieristica proprio. A Pamir, a 3.300 metri di quota, abbiamo esaminato alcuni gruppi di Kazaki e di Uiguri e abbiamo notato alcune caratteristiche che denotano appunto questo tipo di adattamento che è un po' diverso da quello del… Siete stati accolti bene? Guardati con sospetto? Sì, no, no, poi sapevano anche che ero un prete, ma così di traverso l'avevano imparato, non è che mi sia presentato per… ma non ho mai avuto… Sì, la polizia lo sapeva che erano soterdote, no, no… Non l'hanno fermata? No, no… E le sue scalate sulle Dolomiti l'hanno aiutata in alta quota? Sì, ma forse… Senta, professore, chi era Cristina Magrini? Dico io che era una ragazza che a 15 anni per un incidente è entrata in uno stato vegetativo che è durato 38 anni. Sì. Curata sempre amorevolmente dal padre, c'è un'associazione di cui lei è vicepresidente. Beh, questo è un contatto che io ho avuto negli ultimi anni, ecco, non… e sono stato favorito in questo da un interesse che io coltivo da vario tempo nell'esperienza di Casa Santa Chiara che opera da mezzo secolo, da una cinquantina d'anni… E' la sua attività pastorale questa? Beh, volontaria… Certo… No, ne ho avuto anche altre pastorali… Sì, con gli studenti universitari… Nella scuola… Nella scuola… Però questa è stata un po', io dicevo, la mia parrocchietta, nel senso che quando potevo andavo… Una casa, famiglia per persone con disabilità… Sì, che ecco, questa avvicinanza con questo mondo, che è un mondo molto ricco, suggestivo anche con le loro famiglie, se hanno la famiglia oppure se non ce l'hanno con i ragazzi stessi, mi ha reso attento anche a quando mi è stata segnalata, fatta conoscere questa esperienza di di Cristina Magrini, attraverso alcune persone che se ne occupavano e quindi, sì, un po' avvicinato anche a questo mondo, che è il mondo della disabilità gravissima, dove c'è una minima coscienza e tu non sai fino a che punto possono percepire e cogliere… però qualcosa… Cristina riusciva anche a cogliere della vicinanza delle persone, non era… non era uno stato vegetativo così come se fosse… Il padre le ha preparato frullato di biscotti per 38 anni… Romano… Romano… L'hanno definita l'altra è Luana Inglaro… A suo parere la nostra… noi possiamo mettere limiti alla nostra vita? Noi possiamo rinunciarvi come persone? Questo è eticamente accettabile? Oggi viviamo in un'epoca in cui c'è un'esaltazione dell'autodeterminazione e della libera scelta che è diventato un po' un mito e che ha una caratterizzazione più ideologica, che direi scientifica anche e che è di ordine etico. Per cui questa decisione sulla fine, sul fine vita, che viene di fatto sostenuta in queste forme dell'autodeterminazione come principio assoluto, come quasi che sia un diritto civile… Io lo ritengo molto pericoloso… Non è un diritto? No, è una possibilità quella che uno ha, più che un diritto. Io lo vedo come una possibilità che l'uomo ha di far cessare la propria vita, ma non lo so se si possa configurare come un diritto, perché in questo caso però verrebbe, se si configurasse come un diritto, verrebbe meno il dovere anche che una persona ha nei confronti del corpo sociale e viceversa, la solidarietà sociale verso le persone che si trovano in difficoltà. Quindi io associerei, quando si parla di queste cose, i diritti della persona, compreso anche il diritto dell'autodeterminazione, con la dignità della persona stessa e la solidarietà che lo lega alla società e viceversa. Professore, lei si sente più a suo agio nelle sue attività pastorali, da sacerdote o scientifiche? o è sempre la stessa persona? Io cerco di essere la stessa, però accetto le provocazioni che mi vengono da una parte o dall'altra, perché non posso ignorarle. Nello stesso tempo cerco una conciliazione, un'armonizzazione nella persona, nella valutazione che io mi faccio. È un compito complesso? Forse non è ragionamento, è più il cuore che spinge, no? Sì, però la distinzione la amo tenerla e rispettarla, perché mi sembra corretto. La ricerca di armonia è altrettanto importante e a livello almeno soggettivo mi pare di realizzarla, anche se oggettivamente a volte può rimanere delle zone d'ombra. Mi pare che sia un'armonia che in 90 anni è riuscito a tenere bene. Una canzone per uno scalatore e un ricercatore continuo di risposte alle domande che la realtà gli pone, con cui vuole concludere, quale potrebbe essere? Beh, se mi pare di scalatore, lì è già un po' indicata e la montanara rimane sempre il canto, come dire, emblematico, simbolico di una montagna. Che è metafora della vita, sempre. Certo. La cantiamo insieme, la montanara? Oh, va bene. Grazie, professore. Grazie mille. A rivederla. Grazie a tutti.